guardiamoci dici tu quando andiamo buonasera a tutti buonasera agli ospiti qui presenti nella sala conferenze della Fondazione Basso e buonasera ai nostri a chi ci segue da remoto e speriamo che siano in tanti perché stasera abbiamo una grande fortuna di avere un ospite come relatore che ci darà un grosso inutile per capire una serie di questioni complicate ma anche questioni quotidiane quando abbiamo immaginato con il professor Giorgio Vesta questa serata non avevamo proprio in mente che sarebbe capitata nei giorni in cui o nei giorni in cui esplode la polemica politica sulla scalata possibile a TIM ora la questione TIM che è una questione economica digitale di strategie del mercato ma è una questione che entra visto che la TIM in questo paese è un gestore importante del sistema e del sistema delle comunicazioni connesso al sistema digitale molte di queste polemiche apparentemente tutte politiche sui comandari bandite invece bollo re se gli americani possono entrare in questo mercato risentono di questioni ben più complesse e rilevanti e cioè se esistono padroni del digitale e come questi padroni del digitale possono essere eventualmente contenuti o almeno controllati dalla pubblica opinione e cioè dalle democrazie cioè da tutti i nostri cittadini che aspiriamo ad essere ancora co-decisori delle scelte importanti e connesso ai problemi della TIM ma in qualche maniera finendo da problemi della sovranità digitale che sono connessi alla sovranità delle tecnologie e insieme a queste la protezione dei dati e via via poi ogni espressione nette di analista c'è il problema dell'economia digitale di chi la governa degli algoritmi e così via noi abbiamo posto stasera un tema con un punto interrogativo il digitale è uno strumento di geopolitica ora in realtà sarebbe quasi non abbiamo messo il punto interrogativo ma c'è chi non lo mette più quel punto interrogativo e apparentemente sarebbe quasi uno simolo il web è nata come dire rompendo i territori e cioè immaginando un territorio universale senza contributo e beh ciò che invece sta accadendo negli ultimi tempi soprattutto è che le competizioni fra grandi potenze non sono solo competizioni di armamenti ma sono competizioni di tecnologie allora quello che era un un'idea che travolgeva i confini sta diventando uno strumento di competizione politica e quindi geopolitica soprattutto tra i grandi e i potenti di questo mondo e cioè Stati Uniti e Cina all'interno di questo contrasto si pone un terzo soggetto si potrebbe con un terzo soggetto che è l'Unione Europea che non ha allo Stato gli strumenti per poter competere alla pari con Cina e con Stati Uniti ma è stata capace e qui uno dei sicuramente se ne parlare oggi l'Unione Europea è stata capace di in qualche maniera introdurre degli elementi di tutela dei dati e di equilibrio per riuscire a portare in coerenza con il suo tradizionale messaggio dell'uso del diritto prima ancora dell'uso della forza a introdurre elementi di razionalizzazione di equilibrio di tutela dei dati di ciascuno di noi ecco stasera abbiamo la fortuna di avere con noi un autentico specialista il professor Stéphane Grumbach che è un informatico francese specialista dei sistemi di dati lavora presso l'Università di Lione e presso un istituto prestigioso l'Istituto nazionale francese per la ricerca in scienze tecnologie digitali è persona ormai notissima nel campo negli addetti ai lavori ma ciò che è importante dire per il nostro auditorio è che ha trascorso otto anni in Cina come consulente scientifico presso l'ambasciata francese e presso l'Accademia cinese delle scienze e il professore l'Isidic professor cioè in visione fra virgolette presso l'Università di Roma 3 e grazie ai buoni uffici del professor Giorgio Vesta che è un autorevole docente di diritto comparato presso la facoltà di giurisdizione abbiamo avuto la possibilità di avere qui stasera il professor Tupacca i suoi interessi da essenzialmente tecnici sono evoluti verso quei temi che hanno interesse molto questioni globali legate all'impatto dei sistemi digitali sulla società le implicazioni appunto geopolitiche che stanno innescando squilibri e asimetrie tra le diverse nazioni che non sono solo un fatto tecnologico ma sono anche un problema ideologico e immaginiamo di uscire molto arricchiti anche dal dibattito che successivamente si potrà innescare perché dopo la relazione del professor Tupacca avremo gli interventi di autorevoli esperti di questi settori da Giulio De Petra a di Torinto Simone Pergiani e per finire al professor Giorgio Vista professor Grubacca dè la parola grazie vorrei scusarmi per il livello del mio italiano e non è facile parlare in italiano allora mi scusi per cercare le parole allora ho costitato a lavorare sul digitale dal punto di vista politica quando ero in Cina ero in Cina negli anni della presidenza di Hu Jintao fino a più o meno dieci anni fa a questo era il tempo quando le grandi piattaforme erano in emergenza negli Stati Uniti e anche in Cina la Cina aveva forse due o tre anni di ritardo su se torniamo con i Stati Uniti c'era una cosa che per me era molto strana nell'Europa si diceva che la Cina bloccava i sistemi della libertà che erano i sistemi di Google Facebook tutti i sistemi della media infatti la Cina bloccava aveva costruito una frontiera digitale che protettava il paese di questi sistemi americani e che permetteva all'industria cinese di costruire sistemi nazionali si parla molto del controllo della polizia sulla retta e anche della censura c'è una cosa che per me era veramente strana nell'Europa e quando dico l'Europa penso la regione gli intellettuali i giornali anche le persone della politica il controllo che esistava in Cina esistava anche negli stati era conosciuto il agente dell'intelligenza dell'informazione dell'informazione informazione naturalmente vanno dove le informazioni sono e tutta questa industria più o meno si è sviluppata dopo dopo l'anno 2001 e negli Stati Uniti c'era una priorità che era di lottare contro il terrorismo e hanno sviluppato tutti i sistemi e particolarmente quelli della NSA che permetteva di accedere ai dati questo era pubblicato era veramente completamente concreto si poteva leggere nel Washington Post articoli sul fatto che chiaramente la NSA aveva un accesso ai dati che non era legale si sapeva anche perché c'è c'è tante public hearing posizione delle capi degli servizi americani come la NSA CIA eccetera in congresso dove loro dicano veramente chiaramente la necessità di accedere ai questi dati e questo non si vedeva da regolò è una cosa che per me era veramente fascinante che ci sono tante cose nella storia dove da una regione non si vede le cose che succedono in una regola e allora c'era questo discorso della libertà e tutta l'ideologia del movimento libertariano fine al giorno quando nel 2013 Edward Snowden parlava di questo dalla città di Hong Kong in Cina e a questo punto l'Europa sembrava scoprire tutto questo che era infatti le cose che sono liberato da Snowden sono interessanti ma aggiungo più informazioni su un fatto che è conosciuto per esempio il soggetto dell'NSA il fatto che l'NSA era l'agenza internazionale che rifiutava i studi matematici di livello molto alto eccetera tutto questo era conosciuto allora il controllo in Cina non era diverso dal controllo in America infatti il controllo dell'America era molto più importante perché i sistemi dell'America erano più forti non soltanto nell'America ma anche fuori delle franciere e tutti i paesi erano aperti a questo sistema digitale il digitale ha cambiato nostra vita infatti per me adesso quando i miei bimbi erano studiando non mi ricordavo come facevamo quando non c'era il motore di ricerca per accedere alla conoscenza ma queste piattaforme sono fanno l'intermedio tra gente che producono e gente che consumano in tutti i campi il motore di ricerca ha la connessione tra gente che producono conoscenza e gente che vogliono accedere a queste conoscenze ma in tutti i campi dove ci sono questi two-sided markets le piattaforme entrano e controllano questi market che sarà probabilmente il caso per tutti i market e anche anche quello che non sono proprio market perché sono pubblici per il caso è un buon esempio di un market molto semplice che è autista e dove una compagnia o diverse compagnie come Uber hanno fatto che le compagnie di tanti sono diventate obsolete molto velocemente per me sarà il caso per la maggior parte delle istituzioni che esistono oggi sono già obsolete ma non lo sanno che c'è una resistenza della società alla conformazione su piattaforme ma chiaramente la salute l'educazione la fiscalità tanti settori del servizio essenziale saranno portati da piattaforme in un futuro che potrebbe non essere molto lontano allora queste piattaforme in fatto formare un sistema di cibernetta di controllo di controllo globale di un settore o di diversi settori ma infine tutta la società e tutte le interazioni che noi abbiamo con il mondo estero questi sono costrutti da paese principalmente gli Stati Uniti e la Cina ma anche la Russia o la Corea che hanno una visione veramente del potere digitale e del potere delle piattaforme che non è c'è una questione del master della tecnologia ma c'è c'è veramente una visione del potere che danno le piattaforme un'altra cosa che mi interesseva molto quando ero in Cina è che nell'Europa si pensava il mondo come le democrazie dell'Occidente e gli altri regioni come la Cina nel campo digitale la Cina e gli Stati Uniti hanno più o meno la stessa politica e l'Europa è una politica completamente libera perché gli Stati Uniti e la Cina hanno la stessa politica hanno il controllo del territorio hanno la sovranità sul loro territorio e gli Stati Uniti più della Cina la Cina non aveva la sovranità senza il muro militare e hanno una logica di costruire infrastrutture per controllare fuori la frontiera del paese il resto del mondo e adesso c'è una competizione tra gli Stati Uniti e Cina per controllare con sistemi loro tutti i paesi del mondo vorrei fare una piccola pausa e tornare un po' indietro nell'anno 19 57 quest'anno era l'anno quando l'Unione Stati Uniti riusciva a lanciare il il satellito scusami che era il primo satellito artificiale fabricato degli uomini era un successo maggiore della tecnologia della voce per gli Stati Uniti era veramente un shock e questo provocava una reazione negli Stati Uniti che era di accelerare il programma spaziale in America in questo programma c'era una persona che giocava un ruolo molto importante che stava Bernard Van Bon e ho visto nella Repubblica queste due settimane fa c'era qualcosa su Bernard Van Bon e non so perché ma Bernard Van Bon è la persona che costruiva il motore all'itrogeno dell'America e quelli che permetteranno di il programma abitare sull'alunio nel XIII La persona di Bernard Van Bon è molto interessante Bernard Van Bon è un ingegnere geniale che è quello che ha avvicato il D2 della Germania nazista quando gli americani sono quando gli americani e i russi hanno invaduto la Germania tutti e due hanno una priorità prendere subito tutti gli ingegneri che potrebbero essere utili alla difesa e l'interesse era d'occhio di avere questo ingegnere ma anche di non lasciare questi ingegneri cadere nel campo dell'unico e così che Bernard Van Brown nell'operazione Paperclip finisceva nei Stati Uniti per l'anno di ingegnere del programma di TOO della Germania nazista è una construzione che ha da fare con la tecnologia la dominazione e il fatto di accedere a l'unico di Manu Surturk Gesù è molto importante la ragione perché questo ritorno nel passato è che siamo più o meno in una situazione molte persone 60 anni dopo nell'anno 2017 la macchina di DeepMind AlphaGo una macchina di intelligenza artificiale vinceva la competizione con il campione del mondo in Go così un cinese DeepMind è una compagnia dell'Inghilterra che era compratta da Google questo in Cina era un shock più o meno lo stesso shock che in Sud Nica in America e dopo il 2017 era avvenuto un shock ma non soltanto nell'elite nel governo ma anche tutta la popolazione pensava che era un'unicazione un'unicazione forci nell'intelligenza artificiale bilanzi erano accelerati in Cina e dopo il ritorno anche negli Stati Uniti adesso c'è veramente una competizione molto forte tra Cina e Stati Uniti sul campo dell'intelligenza artificiale e come dice Putin quello che maestro che controlla o che sa come sviluppare l'intelligenza artificiale e quello che controlla l'inno e siamo in questa competizione molto forte allora abbiamo queste piattaforme che controllano tutti i rapporti che abbiamo con l'estero con la salute con l'initazione con il mercato eccetera eccetera e controllato di intelligenza artificiale che cambiano tutto il pari immagini la cosa che che per me è veramente strana è la posizione dell'Europa e ho pensato molto perché l'Europa non stava sviluppando sistemi nel campo dell'initare a un livello l'Europa è a un livello scientifico alto anche se adesso non va molto bene ma è ancora molto forte ma la dipendenza da attori stranieri è più o meno di 100% si dice in Europa che abbiamo la competenza per sviluppare le industrie di Italia io penso che non sappiamo e non abbiamo la possibilità di sviluppare questo industrie perché penso che non possiamo sviluppare questa industria perché già da 20 anni parliamo di sviluppare e non abbiamo mai sviluppato siamo in una relazione di dipendenza che diventa molto più forte che alcune dipendenze del passato potevamo avere dipendenza sull'energia o sui materiali su altre industrie che non sappiamo fare ma qui è una dipendenza sul sistema si ben detto che controlla tutto infatti Google sa molto di più in Italia che il governo non è un'organità per me il potere è dove l'informazione sta allora il potere non è più nel governo che l'Italia neanche della Francia anche di altri paesi e l'Europa questa è una situazione molto molto stana ma nell'Europa non si può parlare di questo non si può dire che dovremmo cambiare su questo campo quando si va a Bruxelles si dice ah questo è abbiamo sviluppato condizioni per i stati per sviluppare l'industria quando si va nella capitale di un paese si dice ah questo è un problema globale dovrebbe essere raffetto per poter e nessuno non fa niente perché nessuno non fa niente io penso che non succederà niente in Europa per un tempo probabilmente lungo non solo l'unica ragione che vedo per questa situazione in Europa è l'Olocausto perché l'Olocausto è che la regione del mondo dove i dati personali erano usati dell'amministrazione pubblica per la cosa whatever welfare welfare sì lei voleva dire per la cosa pubblica per la gestione della cosa pubblica no la regione del mondo dove i dati pubblici e per personale erano usati per l'Olocausto è l'Olocausto l'Olocausto è una cosa di vita non si sapeva veramente perché i nazisti erano tanti veloci quando arrivavano in una nuova città per identificare dove abitavano i giudei ebrei ebrei e infatti usavano le macchine del sensus dell'Idea è interessante perché l'Idea dopo l'ambargo di 42 hanno continuato a vendere macchine alla Germania direttamente da Zuligo per accedere Zuligo che è una cosa incredibile così senti il censimento del censimento dell'accomodazione e si si vede che nell'Europa si parla dei dati personali della vita privata ma non si parla mai del governo il nostro interesse non è nel fatto che con questi dati si può governare un territorio e anche governare in modo primo dall'estero da un punto non nel territorio dove si governa siamo interessati solamente ai diritti della gente ma in un modo che guardiamo i rapporti tra la legge e le piattaforme dell'Europa dal mio punto di vista è veramente un rapporto di potere dove in giai formi hanno il potere e l'Europa ha una legge non la viene a corte di giustizia dell'Europa invadono la legge e si comincia a diventare non c'è veramente il potere di controllare con la legge l'attività delle piattaforme è come una guerra senza dove una parte non ha armi non ha la capacità di scegliere ogni giorno che passa siamo più dipendenti delle piattaforme in un modo che un giorno forse potrebbe essere molto pericoloso infatti se una piattaforma americana chiudeva il servizio tutta l'economia dell'Europa si termina poco tanto faccio una pandemia che tutta tutto il mondo la pandemia è un virus è un information che va la l'economia è una cosa e l'information è un golo molto importante perché una un problema veloce. Se il virus è più veloce, se l'informazione tra gli umani è più veloce, è difficile. Allora, naturalmente, il digital deve essere usato in questo caso. La prima applicazione di contact tracing era sviluppata a Singapur e dopo il ministero dell'intero di Francia diceva che un'idea come questa applicazione era veramente contro la nostra cultura e che mai svilupperemo grazie a un'applicazione di questo genere. Ancora, non è una sorpresa per me, ma era chiaro che svilupperemmo un'applicazione così e veramente non so perché il ministro diceva così, ma penso che perché il governo non veramente capisce il digital. Stamattina ho fatto un'audizione per una commissione in Francia su digital e democrazia dei servizi del primo ministero. Era molto sul problema della sensura. La parola sensura non era mai usata. Era infatti una cosa complicata senza poter parlare, parlare, parlare dei problemi che infatti vogliono una sensura come avevamo prima del senso filiale. E c'è un'incapacità da parlare delle cose e parlare del controllo e parlare dei limiti dell'immigiatura. questo non possiamo parlare. Allora, queste applicazioni di lutta contro il Covid, il contact tracing, sono molto interessanti perché infatti rilevano la strategia del paese nel controllo digitale. Nell'Europa si deve fare applicazioni che rispettavano la vita privata e infatti applicazioni che non sono molto utili perché gli applicatori dell'Europa cercano la ragione principale è di non usare i propri dati. Allora il servizio è molto utile. I santi uniti hanno una visione del potere che danno questo sistema. Hanno sviluppato un sistema, quello dell'Apple Google, che permette all'autorità della salute di un paese di costruire un'applicazione nazionale sull'applicazione. e hanno fatto una pubblicità forte. Nell'Europa all'inizio c'erano diversi paesi che volevano avere un'applicazione nazionale e parte dell'amministrazione della salute. Google e Apple fanno una campagna per dire che le applicazioni che hanno sviluppato diversi paesi dell'Europa erano un rischio per la vita privata. e la loro applicazione, naturalmente, proteggeva la carità privata e hanno fatto un luogo molto intelligente. Alla fine, il sessore alla Francia ha le popolazioni ungarie che hanno un'applicazione che non usa direttamente il sistema dell'Apple Google. ma che funziona sui sistemi per Google, non quello specificamente per il Covid. È una strategia molto intelligente. Ha una dipendenza dell'Europa ancora più forte che l'Apple. si potrebbe immaginare che c'è un conflitto politico tra l'Europa e l'Africa in tempo di pandemia. e che, ad esempio, si chiude il servizio di luta contro la pandemia. e che succede? un casino perigliore nella federale. è una dipendenza incredibile. non si capisce come una regione come l'Europa può cadere in una dipendenza forte a questo punto e senza essere capabile di parlare. per questa questione dell'Olocausto e della paura dell'uso che un'imministrazione pubblica potrebbe fare dei dati personali. penso che non ci sono esperanza di vedere l'Europa sviluppare applicazioni e una forza nel campo militare. e penso che è veramente chiaro per la Cina e per gli Stati Uniti che l'Europa non ha la capacità di sviluppare questo tipo di sistema. c'è un'altra difficoltà nel campo del digitale. c'è molto poco gente che capiscono veramente il digitale. che hanno la competenza tecnica. ma il digitale non è una tecnica. il digitale è un pensiero economico. un po' come il capitalismo che usa i dati che fa il ruolo più estensivo dei dati. e si deve pensare così che ci sono dati che si deve prendere più dati possibili e usali per applicazioni che forse non pensiamo oggi ma che vengono dal sviluppo del sistema globale. la gente che capisce questi problemi, i giovani che hanno studiato e che veramente sono in questo campo, vanno a lavorare per i piattaformi. perché è molto divertente e si può fare così in studio. non vanno mai lavorare in un'industria pubblica privata del vecchio mondo. perché è molto difficile. perché il loro lavoro cambia troppo il vecchio mondo. e allora se vanno a lavorare in un'industria anziana o nell'inizazione pubblica sarà molto difficile. non sarà veramente divertente lavorare qua. allora vanno tutti nelle piattaformi. questo tempo durerà un po' di tempo fino a che la popolazione che veramente capisce questi fenomeni digitali sarà sufficientemente grande per aiutare a cambiare l'industria anziana. quanto tempo è questo? quello più buono, professor. non so quando ho cominciato, infatti. questo è un periodo dove in certe forme vanno sviluppati. e pensavo che i modi di fare del passato e gli attori del passato diventano obsolete. e la maggior parte senza capire che sono forse non molto lontano nel tempo del periodo quando caderono. un'università per l'altro. io penso che la maggior parte delle università del mondo scomparevano negli anni di 30 anni. così. i prossimi eventi. infatti guardiamo nel passato più della metà dei giornali del mondo non esistono più perché sono non possono più il loro business model non funziona più. infatti all'inizio delle piattaforme i giornali hanno pensato che era possibile portare il modello anziana del giornale con il prodotto stampato sul digitale e di avere la pubblicità sul digitale e non più sulla carta stampata. ma non è funzionato così. infatti la pubblicità la ricetta o il beneficio della pubblicità va verso le piattaforme non verso le giornali e sono capiti. c'è qualche giornale che hanno cambiato ma molto pochi attori tanto che c'è ancora tante giornale che scompare nel futuro. il new york times è un esempio di un giornale che ha cambiato tutto il suo modello ma era una rivoluzione molto forte nel new york times infatti hanno c'era un rapporto segreto della direzione del new york times che è stato conosciuto dai giornalisti del new york times e questo ha provocato una crisi nel giornale e intanto non era possibile continuare come nel passato. ma hanno cambiato tante cose. per esempio nel passato c'erano infatti il problema della rete il problema è di esplicitare e di pensare il mondo come una rete e non come un come un spazio dove ci sono territori e dove si può trovare un territorio. infatti le piattaforme non sono interessate ai territori sono interessate ai movimenti i flussi i flussi i flussi e loro fanno il modo di essere al controllo dei flussi che vuol dire che ci sono persone che cambiano che cambiano che cambiano informazioni che cambiano informazioni dei flussi ma controllano tutti i flussi i flussi i flussi i flussi i flussi i flussi è un modo di capire il mondo completamente diverso non controllare un territorio ma di essere al controllo dei flussi soltanto dei flussi allora per fare questo il New York Times ha cambiato l'organizzazione interna non c'erano più uffici per giornalisti c'erano uffici per una tema per esempio la Cina o la Cina o la politica americana o e e non c'era più un territorio di una persona che era conosciuta come giornalista nel New York Times c'era un all'interno spesso dell'organizzazione anche che era organizzata come il Cristo e questa questo è molto difficile da capire per persone che sono che hanno la visione delle delle che è un po' come il mondo si pensa con i territori o una compagnia ha diversi dipartimenti o l'Europa e un insieme di paese si pensa prima i territori e i territori eccendrano cambiano tante cose ma il concetto principale è il territorio questo modo di pensare si può inversare pensare prima i flussi e come altra dimensione minore i territori è così che funzionano le piattaforme tutto il pensiero delle piattaforme molto caricaturale del mondo occidentale della cina e infatti una cosa che ancora ancora una cosa che quando vivo in cina mi sembrava molto strana la cina la cina di noi molto di più che noi sappiamo della cina ragione molto semplice che la cina ha avuto tante studenti che hanno studiato principalmente negli Stati Uniti ma anche in tutto il mondo sono sicuro che tutte le università dell'Italia erano studenti italiani erano studenti italiani erano studenti italiani il resto non è vero quando ero in cina volevo fare la scuola del partito che è la scuola che fanno è un po' come l'école nazionale in Francia in Francia ma non è aperto all'invece l'école nazionale in Francia è aperto che vuol dire che i cinesi che hanno studiato alle là sanno tutto della politica francese che capiscono tutto all'invece la comprensione dell'Europa della Cina sembra più o meno come l'egittologia non si può entrare la maggior parte dell'attività politica non e pubblica non si può accedere a questo e ora si deve fare con vettura sul fatto che c'è e questo è una differenza veramente di sapere incredibile c'è un'altra cosa in cima che per me è molto impressionante in un correlato di direzione di un amministrazione, un ministero, un'università ma tutte le strutture di un livello non troppo basso in cima sono governate da un gruppo di gente che hanno ottenuto il diploma di tante università della del metro vorrei dire che per esempio ci sono dodici persone queste cinque o la metà hanno studiato nei Stati Uniti anche hanno forse vissuti studenti nelle Stati Uniti qualche che hanno studiato nell'Europa e altri che hanno studiato nell'Europa in un'università francese la maggior parte della non ho mai visto misura obiettiva di questo fatto ma in un'università francese la maggior parte dei professori hanno un diploma per essere sempre negativo posso che in Italia per le conoscioni ci sono effetti per utilizzare questo problema ma non si si vede la Cina come in un modo molto negativo ma infatti si sa poco della Cina il livello del stanziere del governo è molto alto un punto che è difficile oggi è che la Cina e gli Stati Uniti che sono i due poteri sono molto imbricati infatti se prendiamo un prodotto come questo non so quando questo prodotto è risultato di movimento tra i due paesi molto di un numero di movimenti incredibili che sia sulla proprietà intellettuale sui materiali sui component e questo fa che la Cina e gli Stati Uniti non possono andare in guerra oggi ma la politica oggi è di disentendere disentendere separare separare la dipendenza tra i due paesi nel campo della tecnologia e sono tutti e due forti molto forti questo è veramente cambiato ha cominciato veramente in modo aperto nell'inizio del mandato dell'amministrazione Trump ma sul mandato dell'amministrazione Biden si è rinforzato più e per esempio la MCP è la lista ufficiale delle compagnie stranieri con quali gli americani non possono lavorare è molto più lunga oggi e anche il discorso di Biden è molto più aggressivo verso la Cina che è quello di Trump e in Cina è la stessa cosa è una cosa penso terribile questa riduzione della differenza tecnologica tra i due paesi e penso che è è una è una questione di worry di 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 è difficile per tutti nei due paesi cambia molto l'atmosfera e la libertà guardiamo più verso la Cina infatti il movimento è anche molto forte io farei una proposta lei sta parlando non è per il nostro tempo è per lei sta parlando da oltre 50 minuti e si nota negli ultimi dieci minuti come dire anche nel suo sforzo di parlare italiano una qualche stanchezza io a questo punto avrei direi la discussione con altri interventi in modo che lei possa intanto un po' riposare e poi replicare ai vari servizi e da chi cominciamo da Arturo Arturo Giusto De Petra bene grazie è stato interessantissimo anche seguire il il percorso del dove ci hai portato diciamo con la tua presentazione io intanto riporto qui le domande che fa Simone Pierani che non è potuto venire qui ma che ha scritto le sue domande quindi vi leggo il sintetito quello che lui ha scritto che si collega molto alle ultime cose che sono state dette Simone fa un elenco di sviluppi tecnologici cinesi che sono il progetto New IT New IT che dovrebbe sostituire il modello PCTI tutta la normativa sulla sicurezza dei dati quindi della regolamentazione e poi il fatto che in Cina si parla in metaverso molto prima che ne parlate Zuckerberg e poi che si sta sviluppando addirittura blockchain con caratteristiche cinetiche allora uno dice ma allora questo significa che si sta scusate poi anche il discorso delle monete per cui lo Stato è intervenuto pesantemente e dice stiamo andando verso i cosiddetti giardini recitati cioè due sistemi indipendenti completamente separati anche a livello hardware oltre uno in occidente e uno in città l'Europa come abbiamo detto questo era la domanda di e poi la seconda domanda era mentre prima si è assistito all'uso da parte della Cina di tecnologie occidentali per il controllo probabilmente dieci anni fa era così ora è possibile che tecnologie sviluppate in Cina possano diventare interessanti per lo sviluppo del controllo in questa simmetria analogia che è una delle cose più interessanti della lezione che è stata fatta a queste due domande di Simone aggiungo una considerazione e una domanda a mia volta ed è in questo confronto tra i due modelli noi abbiamo parlato del governo dei dati della disponibilità dei dati come elemento strategico fondamentale di potere è possibile che entrino in questo confronto quelli che sono poco considerati che sono gli elementi materiali dell'industria digitale faccio degli esempi le materie rare con cui si costruisce i i i cavi di telecomunicazione sottomarini attraverso cui parte il 99% delle comunicazioni e quindi a chi appartengono sono rientrano nei recinti di cui della domanda di 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 questa dimensione materiale delle industrie digitale che un confronto geopolitico può assumere forse questa era la domanda una rilevanza significativa e infine niente ma penso che la risposta è già stata data la triste vicenda di un piccolo tentativo europeo di costruire una la storia del cloud europeo era partito da un accordo franco tedesco e poi che la direzione doveva replicare la storia dell'airbass era stato esplicitamente e poi invece è finito in un consorzio che fa standard in cui sono presenti i monopolisti americani e in cui, questa è una cosa molto importante che hai detto, il potere dato dal fatto che quelli che partecipano ai gruppi tecnici che vengono da Microsoft, da Google, eccetera, sono talmente più bravi di quelli europei che praticamente governano i gruppi tecnici e quindi orientano qualunque distruttore regolamentare. Grazie Giulio Grazie Grazie professor Grumbach, buonasera a tutti quanti, mi chiamo Arturo Di Coletto, insegno identità digitale, ma sono giornalista, ho scritto un po' di libri su questi tempi, di cui in realtà ho scritto per 26 anni per le mantorie del Stato nazionale italiane. Con il tentativo di alzare la consapevolezza esattamente sulle tematiche del professore Città. Adesso l'argomento è così vasto che io non sarei da repretto, considero molto importanti le sollecitazioni che diceva del professor Grumbach, in particolare sul tema dei flussi di informazione dei territori digitali. Sottoscrivo quello che diceva Dottopetra e aggiungerei che c'è il tema dei Città, di Dottopetra. Il tema qui potrebbe essere rappresentato con un'unica figura metaforica, se mi consentite, che è quello dello splinternet, sulla balcanizzazione di internet, la fermentazione di internet. E' un termine creato da un ricercatore dedicato all'istituto e usato da Cass Sunstein. Il tema è che le grandi potenze tecnologiche da lungo tempo combattono per catturare l'attenzione degli utenti digitali, dei nerds. Il motivo è presto detto che catturare i flussi di attenzione significa catturare i flussi di informazione. In un mondo in cui siamo tutti quanti consumer, come diceva Dan Tapscott, ma anche prima Alvin Topper, in cui tutti siamo producer plus consumer, cioè produciamo e consumiamo informazioni, noi siamo soggetti attivi nell'economia digitale, le grandi potenze tecnologiche lottano per ottenere la nostra intenzione e farci produrre dati che poi verranno usati in qualche modo. In che modo ne possono usare i dati? Per fare il marketing diretto? Beh, bella sciocchezza, robetta, niente di particolare. Per produrre modelli di intelligenza artificiale? Sì, questo è il tema che i dati devono essere prodotti e utilizzati per addestrare le macchine che serviranno a sostituire gli omni di attività quotidiane, quelle di basso come di alto livello, per controllare appunto l'economia attuale con l'acqua. Quindi, il tema mi sembra che si possa rappresentare come una affermazione, come la lotta per l'affermazione di un modello di sovranità digitale che è diverso tra gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina, che sono i tre grandi attori in campo. C'è un quarto attore che ha avuto una stagione fortunata perché è stato capace di hackerare il sistema di produzione delle calamite dell'attenzione americane. I russi sono stati capaci di hackerare il software americano declinato attraverso le cartoforte tecnologiche che noi chiamiamo social network. È la dottrina Gerassimo, adesso non la spieghiamo, però insomma non la sappiamo. Quindi il tema è questo confronto tra le superpotenze tecnologiche a decidere chi è che deve poter controllare i dati e cosa ci si fa con questi dati. L'Europa ha una posizione abbastanza piena. L'Europa dice che grazie appunto a leggi ombrello come la GDPR e come la NIS e la NIS 2, l'Europa dice che noi dobbiamo proteggere la privacy dei nostri cittadini. Perché? Perché come diceva una persona che è cara a tutti noi in questa Stati Uniti, visto che siamo una protezione in basso, come diceva Stefano Rodotà, la privacy, la precondizione per esercitare altri gruppi. Quindi l'Europa con la GDPR e la NIS prova a fare questo. Perché c'è la NIS? È l'autodeterminazione informativa, cioè la privacy che va intesa come la capacità di decidere autonomamente all'interno di un quadro regolamentare cosa viene fatto con i miei dati, con i dati che produco, non semplicemente i dati personali, che esistono soltanto perché io esisto, ma quelli che produco interagendo nello spazio digitale. Allo stesso tempo ci deve essere un apparato regolatorio che protegge questi dati da un uso sbagliato. La cyber sicurezza informatica serve a proteggere i dati che noi produciamo. Quindi l'Europa sta lavorando all'alarmamento, ma è intelligente in questo senso, per garantire la sovranità digitale dei dati e delle informazioni prodotte nei nostri paesi. Nella nostra regione, come diceva l'Europa. I Stati Uniti continuano a declinare questa volontà di potenza, sempre più debole devo dire, attraverso il social network. Il flop attuale e futuro del meta, di meta, del metaverso di Facebook è alle porte. Le due superpotenze di fatto si confrontano allo tema dell'intelligenza artificiale. Io penso che Kai Fui abbia detto già tutto su questo, non c'è niente da aggiungere. La Cina ha il suo modello, che è un modello che replica attornalmente quello statunitense. Semplicemente più spavaldo nell'affermarne l'utilità. Perché la gestione a sovrania digitale che la Cina pensa è una sovrania digitale che serve al corretto funzionamento della società. Cioè io controllo i tuoi dati di cittadino e decido il rating sociale dei tuoi comportamenti perché questo mi serve a far funzionare bene la mia società e in questo modo garantire il tuo benessere di cittadino. Gli Stati Uniti non dicono questo, dicono una cosa simile. Dicono io devo poter controllare i dati, la mia idea di cittadino e la digitale è che garantendoti la libertà di azione nello spazio digitale garantisco il tuo benessere. Quindi c'è una posizione ideologica che è quella vecchia che una volta spaccava i mondi in due a partire dalla cortina di ferro. Cioè c'è un'idea socialcomunista da una parte, c'è un'idea libertariana capitalista dall'altra. Quindi c'è questa contrapposizione che è quella contrapposizione ideologica. Sotto tutto questo c'è un tema, ci sono le tematiche che accennava direttamente. Allora, chi è che controlla i DNS di internet? Il DNS, l'un system è ancora in mano agli Stati Uniti d'America, i DNS stanno in America, in Europa e in Giappone. Sono ridondati ma stanno lì. Chi è che controlla le terre rare? Fondamentalmente è la Cina che controlla la maggior parte delle terre rare in questo momento, anche se Trump ha detto compriamocela all'Orelandia perché ci andiamo a prendere le terre rare. Chi controlla i chip? Otto aziende, sono le più importanti, sono 15 aziende nel mondo che fanno i chip. Otto stanno in America, cinque stanno tra Taiwan e la Corea del Sud e un paio stanno in Europa. Quindi rispetto a queste tematiche viene declinato poi tutto quello che ci costruisce sopra, quindi l'evoluzione tecnologica che dipende dalla circolazione di data informazione internet, da produzione di dispositivi e quindi dall'utilizzo delle informazioni a diversi punti di vista, a diverse politiche. Su queste politiche l'Europa sta facendo poco, perché chiaramente l'Europa verso il numero che il problema è quello europeo di sempre, cioè è il carattere. E il fatto che abbiamo una classe politica squalificata, incapace e collusa, questo è il motivo principale, è che i nostri paesi sono divorati dalla corruzione e dal fatto che appunto per questi motivi non hanno una visione e non sono capaci di rendersi indipendenti dalle grandi superpotenze. Stare sotto l'ombrello alleato in America ci fa troppo comodo e per questo consegneremo le chiavi dei dati strategici del nostro paese agli americani con il cloud nazionale, che loro dicono però affideranno alle aziende italiane, ma il fatto che useranno tecnologie americane. Dall'altra parte siamo dipendenti dai nuovi affari che possiamo fare con la Cina. In Italia la gente si sta stipendendo alla Cina, che fa grandi regali ogni volta che riesce a vincere un contratto in Italia. A chi firma questi contratti arrivano i regali enormi. Allora, il tema sicuramente va oltre quindi la geografica del digitale che potremmo rappresentare in tanti altri modi, perché c'è una guerra sotterranea che è fatta di furbi, di date informazioni, che c'è una guerra che si combatte sottostante da sempre, che è la guerra per il furbo delle informazioni, cioè le schermaglie che noi vediamo tra Iran e Israele, Iran che attacca gli impianti di desalinizzazione a Gerusalemme o in Israele meridionale, il blocco dei morti vicino a Ormuz che realizzano gli israeliani, elevate schermaglie, sono le schermaglie di ogni giorno tra Stati Uniti, Cina e Russia, i russi che cercano di ottenere i dati degli americani, che mettono in difficoltà l'economia americana, i russi che cercano di impedire all'economia italiana e europea di svilupparsi, i cinesi che cercano di rubare le informazioni sulla pandemia all'OMS e così via. C'è una guerra sotterranea, costante, giornaliera, quotidiana e ogni attore risponde come può. In questo contesto l'Italia, penso, si sta posizionando relativamente bene quando usa, spero che lo faccia con T, usa la Golden Power, che è la legge che se ne riconosce, quando usa la Golden Power e soprattutto adesso che mette in declin, cioè attualizza le regole del periodo nazionale di sicurezza cibernettica. È sufficiente? No, secondo me non è sufficiente perché, come diceva lei, parliamo di legioni e territori. C'è un luogo dove si possono discutere queste cose e portare a composizione interessi diversi e valorizzare il punto di vista europeo. C'è un luogo, è l'Internet Governance Forum. L'Internet Governance Forum è ancora presidiato militarmente da Stati Uniti, Cina e Russia. Solo la Francia è stata capace di sviluppare in questi anni una posizione autonoma e utile, secondo me, all'affermazione di valori europei all'interno dell'Internet Governance Forum. Dobbiamo fare uno sforzo superiore in quella direzione. Gli europei si devono parlare di più e devono capire, veramente aiutarsi a capire che cos'è questa straordinaria rivoluzione che l'Internet ha portato e che lei ha citato indirettamente parlando dello sputnik, perché l'Internet nasce quando da Isnauer vede lo sputnik nello spazio e dice che noi perderemo la capacità tecnologica, economica, politica e quindi militare nel mondo se non batteremo i russi nella forza dello spazio. Quindi quello shock è stato funzionato. Lo shock che stiamo vivendo oggi con le nostre masse di cittadini che stanno attaccati a un telefonino e regalano i loro dati senza essere consapevoli del loro valore nel caso di una pandemia, ecco, forse questi cittadini li possiamo insegnare qualcosa, ma soprattutto sono le nostre diplomazie che devono intervenire, intanto sanzionando in maniera netta e brutale gli attacchi cibernetici russi e con qualche l'Europa, ma anche il tentativo di voti di informazione al terratto della Cina. Noi sappiamo che sono loro, riusciamo a corrermi dietro saltato da noi, da un'op della rete a un altro, ma dobbiamo farli in più, però ci vuole un'unità europea che va costruita, secondo me, dentro i forum della loro massimo. Grazie per il tuo ritorno. Giorgio, puoi intervenire? Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 anni precedente da uno spaccato della società cinese stefan grumba e molti altri ma bisogna in qualche modo anche squarciare vero nella nazioni mediatiche che non riescono a congelare in questo penso che va dato atto di un'opera estremamente utile fatta oggi in secondo luogo credo che l'altro elemento per il quale dobbiamo essere gradi al professor grumba e l'avere posto l'enfasi sul lato del potere il tema del potere spesso per noi giuristi sfugge in questi discorsi ci contentiamo spesso di fratelli retoriche di anche non dire facili entusiasmi dall'ultimo prodotto di regolazione ignorando che spesso la regolazione è unita a un potere di intervento sui fenomeni reali lascia il tempo che trova e al massimo è il servizio che serve a chi la scrive la regolazione faccio solo un esempio dell'idea del gruppo artificial intelligence costituito dalla commissione europea gran parte dei componenti hanno presentato l'industria benché si facesse un po ampio ampia entra di ampio uso del termine dell'etica dell'etica delle scienze di ricerca ma poi le scelte fatte da molti punti di vista sono scelte compromissorie che segnano appunto l'esigenza di trovare un po di verismo politico e la stessa proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale secondo me conferma alcune delle affermazioni che sono tenute oggi al professor Brumbach il fatto che noi abbiamo da un certo punto di vista un'ossessione storicamente comprensibile con il controllo pubblico dei dati è una cosa come dire che abbiamo visto durante la pandemia quando tutti noi seguivamo dibattiti a volte surreali nei quali si temeva la conservazione dei dati dei provider dei ministri della sanità europea perché la fraccia è stata l'unica in questo senso dimenticandoci quanto ciascuno di noi ogni giorno usando per esempio i servizi di navigazione offerti da google c'è delle motivazioni dati estremamente più granulare delle piattaforme quindi questo è stato un tema ma se noi guardiamo la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale che pure come dire va in una direzione comprensibile e anche ragionevole eppure io trovo che vi sia una simmetrica rispetto ai timori nei confronti dell'uso pubblico delle informazioni rispetto a quello che avviene nel settore del lato per esempio i sistemi di social scoring degli dati considerati come il rischio irragionevole per i dati della proposta di regolamento sono solo i social scoring pubblici quando invece nel social scoring privato ci sono vite e decise quotidianamente da algoritmi da bui logica e che spesso sono utilizzati semplicemente per scopi di business quando invece per esempio la città nell'ultima proposta sulla regolazione algoritmica che sarà pubblica qualche poco tempo fa interviene direttamente per avere forme di controllo pubblico sul social scoring ad esempio per contrastare la addition, la suevazione dei soggetti ai servizi informatici che sono a danno per esempio dei soggetti generati giusto per dire l'utilità di avere sempre un gioco degli specchi e non soltanto vedere la realtà oppure per esempio il controllo dei sistemi di riconoscimento facciale da remoto, distanza e real time che nella proposta di regolamento dell'intelligenza artificiale sono vietati essenzialmente per le operazioni pubbliche di law enforcement salvo alcune forme di autorizzazione mentre completamente ignorato il sistema è il problema del special recognition da parte del sistema regionale allora probabilmente qui hanno giocato dei doppi che hanno fatto andacquare alcune delle proposte iniziali ma c'è un dato più di fondo che è questa incapacità dell'Europa in questa fase, forse qualcosa sta cambiando di comprendere come l'unica chance che può essere per usare i dati in maniera intelligente è quella di usarli per le finalità conforme all'Uroploma di protezioni soggetti deboli, redistributive di supporto e controllo sociale dei poteri alle quali pensavo criminalmente proprio se non proprietari poi è passata una vulgata individualistica del sistema della protezione dei dati alcune propagge, io le ritrovo anche nelle ultime proteste dei sistemi Novak dove alcuni dei temi del comunitarismo si sono persi e quindi anche da questo punto di vista uno sguardo critico che deve essere la funzione degli accademici, degli intellettuali e che talora in questa tendenza recente si perde è estremamente importante. C'è di fatto, come diceva Stefan Grumbach, che in questo scenario globale forse l'unica cosa che ci rimane, mi diceva fatto un po' all'inizio, quando parliamo del potere in Europa è il potere del diritto, altri poteri non se ne vedono e non a caso forse la strategia che l'Europa sta cercando di attuare nella maniera più efficace da un certo punto di vista è quella dell'asportazione dei modelli ricordosi, posto che non siamo stati in grado di comprendere quanto fosse stato importante costruire infrastrutture ed esportare prodotti tecnologici ora siamo in grado al massimo di esportare modelli regolatori che può andar bene perché certamente abbiamo avuto anche i risultati soddisfacenti soprattutto sul piano di data protection in fondo se la Cina sia nel codice civile cinese recente sia nel personal information protection si è ispirata ai modelli romani perché ci conosce, ci studia, ci ammigra e coglie quanto dell'Europa può servire anche alla società cinese. L'innalzamento della privacy del consumatore è una priorità nazionale cinese perché significa dare riduce, significa creare sistemi di mercato regolato mantenendo ovviamente freeway nel flusso delle informazioni dal settore privato al settore pubblico perché c'è un interesse nazionale che studia a pensare. Gli Stati Uniti, o questo poi chiudo perché potremmo parlare delle ore, in questo momento stanno tentando una miscela che in fondo non è nuova ma che si riproduce da digitale tra un modello di tipo liberista all'interno con la paura fondamentale e la paura di introdurre regolazioni che abbiano un overreach e che possano inibire lo sviluppo del mercato perché ancora oggi non sappiamo che c'è vero. Ma dall'altra parte, sul piano delle relazioni internazionali, il modello è tipicamente quello mercatilista. Supporto pieno e totale ai grandi campioni industriali americani in tutte le sedi, complete quelle politiche ricordate perché il problema della proposta di tassazione delle piattaforme in Europa c'è stata la mano politica americana per dare contro questo tipo di proposte in maniera del tutto non dissimile da quello che i cinesi stanno facendo con i 15 campioni nazionali di Europa. Dunque, su un piano comparatistico io credo che ragionare sugli elementi di contiguità tra il modello americano e quello cinese è altrettanto importante di non perdere di vista le peculiarità dell'approccio europeo che certamente rispetto alla Cina insistono sul beneficio dei modelli regolatori nei confronti dell'individuo e di una idea di dignità dell'individuo quando invece il centro di interesse che c'era anche Arturo di Corinto un poco fa del sistema regolatorio cinese è quello della coesione sociale, dell'armonia della società e della posizione, diciamo, di leadership e questa parola è assente dai discorsi europei che è presente in quella americana e in quella cinese. Questo è lo scenario nel quale ci muoviamo. Come giuristi io credo che noi dobbiamo prestare molta più attenzione a quello che ci dicono i colonisti e i tecnologi perché non sempre una regolazione che rispecchia principi e regole produce risultati aspettabili. spesso può provocare un risultato opposto se al profilo delle regole non prestiamo attenzione al profilo del potere della realtà. Grazie al professor Giordioresta che ha messo e introdotto, così come hanno fatto prima il professor Di Corinto e Giulio De Petra, una serie di problemi. Io adesso do la parola al professor Grunbach aggiungendo un mio quesito personale. C'era anche una domanda per tutti. Prego, prego, faccio una domanda. Scusa per il mio rapporto. Ho molto apprezzato il dibattito che è una introduzione affascinante, però per un minuto per cominciare a introduire un dubbio sul termine sua realità. Per vero, direi, non bene per fare, sono te a te che ti ha dato al CRS, ma non alla registrazione. Un dubbio sul termine sua realità, ma per vero dobbiamo apprezzarci a un confronto e uno scontro, cioè tre unici poli che hanno i soldi e la potenza per questo scenario che può diventare anche molto inquietante. Poi c'è la ricerca dell'autonomia degli Stati Uniti della Cina, della Cina degli Stati Uniti, dell'Europa, da loro due, eccetera. Non so che strada abbia rimboccato. Davvero dobbiamo fare le cose, imparare a fare le cose degli americani e dei signori che hanno fatto bene? L'intelligenza artificiale americana dal punto di vista della moralizzazione del capitale è un successo. È un successo. Hanno salvato gli spari, le borse, eccetera, quasi indipendentemente dal ciclo economico. Il controllo sociale cinese è un successo. Non dovremmo invece concentrare la nostra autonoma ricerca europea sui fallimenti del modello americano che hanno fatto bene le spese. Cioè, sono tempi di società. Il controllo del territorio, la velocità culturale, la coesione sociale, certamente il disegnante resta adesso il controllo del potere, che è il reciproco del controllo sociale del potere sui cittadini. E non dovremmo capire che forse il ruolo Europa, se ne ha una, non è quella di essere lei la potenza, certo, è un presupposto essere la potenza, ma è ricordarci che per tutti l'umanità non sono i cinesi, gli americani, gli europei. E, bene o male, copieranno gli algoritmi economici degli americani, quelli di controllo sociale dei cinesi, cosa copieranno gli europei? Quindi, se non abbiamo la nostra intelligenza artificiale, con i nostri obiettivi, diversi dei due di successo che ci hanno proposto. Ringrazio davvero Ricciara, perché ha esplicitato con addicchimento il quesito che stavo ponendo a questo gruppo. E cioè, abbiamo capito che, il nostro titolo già andava in quella direzione, tecnologia e digitale come strumento di geopolitica. Abbiamo messo il punto di domanda solo per prudenza. Abbiamo capito che è una questione di potere. Per molti anni le questioni di potere hanno tutto incentrato sugli armamenti. Oggi è di pari importanza la tecnologia e l'intelligenza artificiale. Proprio per ciò che ci ha illustrato il professor Grumbach, io ho più di qualche dubbio sulla capacità dell'Europa, che vado nella direzione di Chiara, di recuperare il tempo perso. e peraltro, essendo un europeista convinto, con riferimento più ai valori che alle politiche dell'Europa, io non vorrei che nel mondo di oggi e quello futuro scomparisse un punto di possibile potenziale equilibrio fra superpotenze. E quale potrebbe essere il ruolo dell'Europa posto che l'Europa e l'Unione Europea riesca a risolvere i problemi della sua identità politica che superi gli attuali sovranismi che non sono solo quelli della destra francese o della destra italiana, ma sono quelli dell'Ungheria, della Polonia, di alcune tentazioni olandesi e così via. Ma se dovessimo arrivare finalmente a un'Europa che sviluppi l'impostazione che viene da Spinelli a conclusione o nel mezzo della guerra, io vedrei un ruolo dell'Europa coerente con il meglio che ha prodotto negli ultimi 200 anni salvando il peggio e quello della prima metà del Novecento che si è concluso appunto con l'Olocausto. E qual è il meglio? Il meglio è la cultura, è il diritto, è la protezione delle persone al di là dell'individualismo americano. E allora la capacità regolatoria che l'Europa ha prospettato, ha realizzato con contraddizioni e con cadute e che prospetta il mondo può diventare un nuovo modello di riferimento nel sintetizzare il modello americano e il modello cinese. Un attimo fa Giorgio Vesta implicitamente faceva riferimento ai valori liberali o liberisti e ai valori cosiddetti asiatici. Non si discute più negli ultimi tempi ma per un decennio abbiamo molto discusso dei valori asiatici. I valori europei sono un punto di equilibrio che potrebbe, visto che il mondo non è fatto tutto, gli americani e gli occidenti, potrebbe l'Europa diventare un conto di riferimento per metà del mondo, quella metà del mondo che vive di dipendenza o del modello occidente o del potere cinese o del potere americano ma che non vorrebbe essere assimilata. Ecco, questa possibilità secondo lei è reale e sussiste o è una illusione di europeisti superati dei tempi che non riescono a vedere che la brutalità del potere ha bisogno più, come dire, di Mattiavelli e del suo realismo politico che non invece delle illusioni o delle utopie di Spinelli del migliorore del lavoro. Grazie, è una domanda molto difficile. La questione della politica è molto importante e mi sembra che non si parla più di politica. si parla di gestione ma non di politica. se mi ricordo di due pagine, è strano quando parlo in una lingua straniera, qualche volta non mi ricordo di nome, il mistero degli affari spagnoli e francesi, Schumann, over Schumann. Le due pagine di Schumann del 90-1950 sull'Europa. lui diceva che dobbiamo costruire un'Europa dove la Germania e la Francia non sono più la guerra. come diceva, ma andava più davanti, diceva che dobbiamo costruire un'Europa dove un giovane cedepo e un giovane francese non possono più pensare alla gioia con un altro paese. era una lezione, un'Europa incredibile. Le parole di Schumann sono molto semplici e un'Europa incredibile ed hanno fatto. Quando oggi non è domani le cose che sono pubblicate, ma non è possibile leggere le cose che pubblicano, sono parole che mi sembra veramente del romanzo Norlon del 1984. E' una lingua che non vuole dire niente e non c'è una visione del futuro. Penso che nell'Europa si vede il futuro come una situazione che sarà peggio di oggi. E io penso che non si può fare politica senza una visione del futuro che è migliore di oggi. E allora, se abbiamo una visione del futuro che è migliore di oggi, non saremo d'accordo su che vuol dire migliore, che possiamo fare politica per scherza che possiamo ne parlare di perché la mia visione del futuro migliore dovrebbe essere migliore della visione di una cazzo. una cosa che all'inizio quando vivivo in Cina avevo questa cultura della democrazia nell'Europa. c'è una cosa che mi sembrava molto strana, che la discussione politica in Cina era molto più interessante, molto più fondamentale, che la discussione in Europa. E mi ricordo, per esempio, c'era una grande discussione su la pena democrazia è usata in Cina frequentemente, ma la discussione era molto interessante, molto profonda. penso che l'Europa non ha una visione del futuro. E allora, senza la visione del futuro, senza l'unità, non si può fare politica. E allora non si fa politica. Si scrive cose che non hanno senso. La gestione è come si poteva fare in una legge che diceva che la realtà era così. c'è un detto fatto della Francia che diceva il migliore di fare una legge che dice che la Cina non esiste, quindi non ci saranno più problemi con la Cina. Trovo che non abbiamo un doppio e non possiamo pari della realtà. E questo è veramente difficile per fare politica. sul campo digitale e naturalmente su tutti i campi. Allora, perché la situazione è così? Mi arrivo a farlo. Io ho il sentimento, il sentimento, il sentimento, il sentimento, il sentimento, il sentimento, il sentimento che c'era qualcosa di ipocrita, il sentimento, il sentimento, nel valore dell'Europa. Perché erano sviluppato in un tempo dove per qualche paese dell'Europa eravamo sviluppando valori, ma nel stesso tempo avevamo una politica coloniale che era molto importante. quando ero giovane era una cosa del passaggio. Si poteva studiare, ma non era più veramente un problema di oggi. Ma oggi è un tópico che è presente. È presente all'interno degli Stati Uniti, come la Francia, come altri paesi dell'Europa. è presente anche in altri paesi e particolarmente nei paesi che sono stati virtualmente occupati. Penso che ci sono molte ragioni perché questo problema, è diventato molto importante nel dibattito politico e non era così, diciamo, 30 anni fa. Un cambiamento è che il potere non è più il potere dell'Occidente. e anche il potere di un paese che è dell'Oriente. E questo cambia tutto il modello. perché la Russia, l'Europa e gli Stati Uniti sono tutti i paesi della stessa cultura che guardiamo di altra parte del mondo. Questo è una cosa che cambia veramente la visione. Per esempio, che si sviluppa in Vietnam o in altri paesi dove si sembra che nell'Europa il discorso era su la Germania nazista. non c'erano crime. Crime terribili della storia, ma loro sanno che non era così. E lo dicono adesso. E c'è un altro punto che mi sembra molto importante che è il riscaldamento. Perché se pensiamo chi è la responsabilità del riscaldamento globale della guerra? E' l'Europa. La rivoluzione industriale, la colonizzazione, il modello capitale come il modello comunistico e comunistà. tutto questo viene l'Europa. E questo punto da vista penso che mettere l'Europa in una situazione molto difficile. Perché infatti ha la responsabilità di tutto questo regime. e ha vissuto pensando che, particolarmente in Francia, che i nostri valori erano universali e che dobbiamo portarli in un cosiddettismo incredibile in tutta la terra. Io ho tanti amici in Cina che non possono supportare il discorso sui diritti umani. Non perché non amano questi diritti, ma perché il discorso dell'Europa è verso la Cina. e come la Cina è veramente un paese di barbarie, che non hanno valori, che non hanno tradizioni, eccetera, eccetera. E' un discorso molto aggressivo. E' che tanti intellettuali della Cina che amano l'Europa, non parlo di altri, non possono supportare. Io penso che oggi la situazione dell'Europa è molto difficile, perché i valori universali erano quelli della colonizzazione. sono deboli, infatti. E quando il potere era veramente nel nostro campo, allora si poteva ignorare questi aspetti. adesso non si può più ignorare, e non si può più ignorare questi aspetti, all'intero dove c'è un tantino con politico su questi problemi, ma anche all'estero dove c'è molto più direttiva. bene, mi pare che questo, questa sottolineatura finale del questo gruppo, che malgrado il passaggio dei decenni, l'Unione Europea, il cambiamento del mondo, è un vizio antico, tipicamente europeo, sia ancora attuale, che è l'elettrocentrismo, e cioè che la nostra tendenza a portare i nostri valori come valore universale. in parte condivido. sta di fatto che c'è tutta un'altra parte dell'Occidente che ha voluto portare questi valori, i diritti umani, la democrazia, con le bombe, con le invasioni, con la guerra. quindi almeno questa distinzione la farei tra chi pretende di imporre il proprio modello con le invasioni e la guerra, determinando i disastri della Bibbia o i disastri di tutto il Medio Oriente, e chi invece, forse per residuo di estrocentrismo e di neocolonialismo, cerca perlomeno un confronto sui temi del diritto da negoziare con gli altri. io ringrazio molto il professor Grumbach e ringrazio molto Giorgio Resta, che ce l'ha fatto, almeno parlo per lui, ce l'ha fatto scoprire. Giorgio Resta, nell'ultimo consiglio di amministrazione della Fondazione, ci ha parlato del professor Grumbach e della necessità di un incontro, magari distretto, che fosse il primo segmento di un percorso di ricerca in questa direzione. Mentre come ho visto che di Corinto, di Chiara, di Petra, resta sull'argomento, sono competenti e appassionati, io chiedo anche a loro una collaborazione, mettendo insieme anche le forze che stanno in questo palazzo. la Fondazione Basso e il CRS, anche con la scuola del digitale diretto, la scuola critica del digitale diretto da Chiudio di Petra, di esplorare insieme una prosecuzione di questo confronto che abbia come finalità, non dico una culturazione, ma una informazione un po' più larga, dei temi che questa sera abbiamo cominciato a esplorare. Grazie, grazie a voi e insieme vedremo quale sarà il prossimo appuntamento. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.